Noi studenti riteniamo che oggi abbiamo diritto ad un trasporto pubblico efficiente e a un numero necessario di Aule e per questo ci batteremo. Sono stanchi ma determinati a rivendicare i propri diritti gli studenti dell'Istituto Alberghiero Vincenzo Telese di Ischia che denunciano con forza l'assurdo ed intollerabile situazione di disagio, con cui sono quotidianamente costretti a fare i conti a causa della tavica carenza di Aule e della carenza di corse del trasporto pubblico automobilistico. Pensate che su ben 50 classi nel loro istituto sono presenti solo 25 Aule, la metà di quelle che servirebbero, da non credere. E questo ovviamente comporta assurde rotazioni e doppi turni. Una scuola che offre tantissimi servizi, eventi, manifestazioni ed ha una grande richiesta di iscritti, sia per il corso della mattina sia per il corso serale. Abbiamo 900 alunni e con un totale di 25 Aule, ovvero la metà. Noi, questa situazione ci comporta gravi problemi, anche perché noi facciamo una fascia d'orario dalle 8.10 alle 14 e due volte a settimana dalle 14 alle 18.30, permettendo così un arrivo a casa verso le 9, soprattutto anche chi è di Procida che prende l'ultimo traghetto delle 21. Noi chiediamo un aiuto perché noi siamo la voce di oggi, la voce del futuro e quindi noi ci siamo messi da parte fino a oggi perché abbiamo aiutato le scuole terremotate. Ma adesso è arrivato il nostro turno e abbiamo bisogno anche noi di Aule per garantire un buono studio. Drammatica è anche la situazione relativa alla mobilità degli studenti dell'alberghiero, i quali spesso fanno ritardo o sono costretti a saltare la giornata di scuola a causa della carenza di corse dei pullman delle avabus, i cui mezzi spesso viaggiano con estremo ritardo o si guastano per strada. Siamo qui oggi per parlare di questa problematica molto grave perché affrontiamo noi alunni quotidianamente. Noi ragazzi ci troviamo ogni mattina col dubbio di non sapere se arriviamo in orario a scuola, se ci arriviamo a scuola in quanto questi pullman o non passano o passano in ritardi o sono pieni. Noi siamo stanchi di questa situazione, siamo stati in silenzio fino adesso e adesso è arrivato il nostro momento di parlare. Come tutte le altre scuole ci vogliamo far sentire anche noi perché è una dinamica che prende tutte le scuole dell'isola e noi siamo veramente al limite. Ci troviamo quotidianamente a combattere contro delle persone che non ci vengono incontro, non solo per noi alunni ma anche per i turisti e questo è un fattore veramente drammatico visto che noi siamo un'isola che lavoriamo su questo. Ciò è veramente un disastro. Noi ragazzi ne parliamo quotidianamente tra di noi e siamo arrivati al punto di esasperazione. Un esempio banale mi è capitato recentemente che ho uscita da scuola alle 14.40 ho aspettato per un'ora e dieci il pullman e ciò non è per niente bello perché comunque noi abbiamo una vita al di fuori della scuola. C'è chi lavora, chi ha i propri impegni. E non solo, noi comunque uscendo da scuola dobbiamo fare le nostre cose e poi dobbiamo tornare a studiare ed è difficile se tu a casa arrivi alle 4, alle 5, passate. Non è per niente giusto. La situazione di disagio vissuta quotidianamente dai ragazzi dell'alberghiero, istituto scolastico che ha formato chef stellati e professionisti nel campo della ristorazione tra i più bravi al mondo è intollerabile ed integna di un paese degno di poter essere definito civile in quanto penalizza il loro pieno diritto allo studio. E allora bene fanno a rivendicare i propri diritti impunemente calpestati da quel potere politico che a tutti i livelli istituzionali non garantisce il pieno e sereno diritto allo studio dei nostri figli.